Jane Alexander è stata ospite di Pomeriggio 5, il programma di Barbaradusso, meglio condotto dalla bella Barbaradusso, ha aperto il suo cuore, la bellissima Jane Alexander, che ha avuto il piacere di conoscere qui a Roma, nel senso che ci fece insieme una foto, ricordo, un selfie. E ha parlato del cuore, del suo stato sentimentale, ovviamente non entro nel merito, però insomma avrebbe parlato proprio di quella, chiamiamola, tematica chiamata amore, una tematica importante, bella, affascinante, che come diceva, come disse anticamente Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Non aggiungo altro, non entro nel merito, perché non voglio andare a ledere la privacy di proprio Jane, vi faccio sapere che però ha parlato del buon Elia, non entro, ripeto, nel merito. Vi faccio però sapere che comunque è stata abbastanza tranquilla e serena, da come ho visto la puntata qui nel web, in streaming, la bella Jane Alexander è rimasta tranquillina, non l'ho vista turbata, non l'ho vista diciamo così alterata e o diversa da quello che comunque abbiamo avuto il piacere di vedere in television. Grazie a tutti, saluti cari al prossimo video, tale video non vuole assolutamente ledere la privacy di Jane, donna che apprezzo e che stimo molto moltissimo, anche perché ripeto che poi tempo fa l'ho incontrata per caso qui a Roma, ci ho fatto una foto insieme, una foto ricordo che ancora mantengo i miei ricordi, e questo è il mio parere. Saluti cari al prossimo video da Leandro, alias narratore italiano.